Una guida con azioni e consigli da mettere in pratica per migliorare i risultati delle imprese, sia sul territorio che online. Questi gli obiettivi che si pone il progetto Rilancio PMI Consigli Pratici per Accelerare la Ripresa, sviluppato dal Comitato Piccola Industria di un'industria afrosinone in collaborazione con l'Università di Cassino. Un esempio fondamentalmente di come le aziende possono collaborare con l'Università, soprattutto le piccole che in genere non hanno rapporti frequenti con l'Università, con il mondo universitario, per quello che è il trasferimento di conoscenze e di tecnologia. Questo è un esempio di come si può far fruttare l'opportunità che rappresenta l'Università per un territorio, per lo sviluppo e la crescita delle aziende e del territorio stesso. Il progetto riguarda appunto proprio il rilancio delle PMI e delle misure, se vogliamo, quasi alla carta che possiamo dare come migliori pratiche, come best practice delle imprese e devo dire che proprio dalla sinergia delle imprese che un po' hanno raccolto questa sfida, questo progetto e il professore Greco che ha ovviamente animato questa ricerca, nascono dei suggerimenti non soltanto per le imprese che hanno partecipato al progetto, ma anche a tante altre imprese del territorio che possono prendere spunti positivi di questo progetto. Importante è la collaborazione tra università e un'industria per aiutare le imprese in questa fase di ripartenza. È un progetto che abbiamo fatto tra un'industria e un'università degli studi di Cassino e dell'Azione Meridionale per offrire alle piccole e medie imprese del territorio degli strumenti per agganciare la ripresa ed essere un po' più competitive nei loro mercati. Quindi abbiamo creato un Vademecum con degli strumenti utili nella loro organizzazione di tutti i giorni. Strumenti offerti alle imprese per essere competitivi su tutti i fronti. Questo progetto in buona sostanza è un Vademecum, quindi una raccolta di buone pratiche per le imprese da adottare per incrementare il proprio mercato attraverso delle metodologie, l'utilizzo di strumenti quali l'e-commerce e il marketing online. Progetti futuri riguarderanno anche altre aree, altri settori.